Sono 27.313 i controlli effettuati dal Corpo Forestale dello Stato sul territorio regionale nel primo semestre del 2014. 1.700 gli illeciti accertati, 7.845 le persone controllate, 507 quelle denunciate e 1.508 le sanzioni. I dati sono stati diffusi in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Villa La Favorita alla presenza delle autorità. Un modo per fare il punto anche sul numero di incendi che hanno colpito le aree boschive nel corso dell'estate. Al 15 agosto il 38% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 90 casi invece di 65, ma una riduzione rispetto alla media del quinquennio 2009-2013, pari almeno 64%. Un'attività, quella sul fronte dell'antincendio, che non interessa il Corpo Forestale solo per gli interventi di emergenza, ma anche nell'azione di repressione del fenomeno. In occasione dell'inaugurazione di Villa La Favorita è stato anche sottoscritto il rinnovo della convenzione tra Regione Toscana e il Corpo Forestale dello Stato per il triennio 2014-2016 in materia forestale lotta agli incendi boschivi ed educazione ambientale. Un luglio così piovoso non si vedeva dal 1916, secondo il Servizio Idrogeologico della Regione Toscana. Il dato medio delle precipitazioni nei 30 giorni si è attestato sui 170 mm con un surplus di pioggia del 450%. Il Consorzio LAM aveva già anticipato il dato, spiegando che nel mese di luglio è piovuto sei volte in più rispetto alla media stagionale, con una quantità di acqua superiore a quella di novembre, il mese più piovoso dell'anno. Sono registrate precipitazioni sei volte superiori alla media su gran parte della Regione, in particolare sulle province nord-occidentali, quindi le città di Pisa, Massacarrara, Lucca, Pistoia, anche Livorno. Anche i giorni piovosi sono stati quattro volte la norma. A Livorno è piovuto 15 volte in più rispetto alla media, a Lucca e Pisa nove volte di più, a Firenze è piovuto il doppio e ad Arezzo e Siena il triplo. L'alta pressione rimonterà nell'ultima settimana di agosto, fa sapere il LAM, portando con sé temperature più elevate, mentre per il mese di settembre non dovrebbero esserci variazioni sostanziali rispetto ad agosto, con alternanza di piogge e bel tempo e una temperatura inferiore alla media. La Regione Toscana metterà mano al portafogli per sostenere, attraverso una campagna di comunicazione e promozione ad hoc, le iniziative che i singoli stabilimenti balneari vorranno organizzare anche dopo il 15 settembre, data di chiusura ufficiale della stagione estiva. Iniziative di cui si è parlato nel corso di un tavolo a Firenze, cui hanno partecipato dirigenti della Regione, il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, e i rappresentanti delle categorie economiche e balneari. Obiettivo quello di salvare una stagione messa a dura prova dal maltempo, che ha determinato un crollo delle presenze sotto gli ombrelloni del 50%. Diciamo che sarà molto importante quello che succederà anche a livello soprattutto di promozione, perché non basta aprire, bisogna che arrivi gente, anche per mantenere le nostre imprese attive, funzionanti, che sono cariche di spese e purtroppo anche di burocrazia. Per questo la Regione creerà una mail ad hoc, dove gli esercenti potranno comunicare gli eventi organizzati per settembre e a quel punto sarà Toscana Promozione a prenderne in carico la campagna di comunicazione. Il tutto però con lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Nella fine dell'anno avremmo programmato anche un coordinamento degli eventi sia degli enti locali che delle imprese in modo da dare una maggiore visibilità, fare massa critica sul cartellone sull'estate del 2015. Il 2015 sarà anche l'anno in cui verranno messe all'asta le concessioni balneari come previsto dalla direttiva europea Bolkenstein e su questo il sindaco di Forte dei Marmi ha chiesto un intervento diretto da parte del governo per dare certezze agli imprenditori incentivandoli a investire sul rinnovo degli stabilimenti. La scelta della Regione Toscana di autorizzare la fecondazione eterologa in 22 centri tra pubblici, privati e privati convenzionati spacca il Partito Democratico. Il deputato del PD di stretta osservanza arenziana, nonché membro della Commissione Sanità alla Camera Federico Gelli, su Twitter ha bocciato la strada intrapresa dal governatore della Toscana Enrico Rossi definendola pericolosa per l'intero sistema sanitario. Il fatto che non ci siano linee guida uniformi a livello nazionale infatti secondo Gelli porterà decine di coppie a spostarsi in Toscana per sottoporsi alla fecondazione eterologa, ma si chiede il deputato fiorentino chi pagherà per queste prestazioni. Per i toscani il problema non si pone visto che sia Rossi che l'assessore alla sanità Luigi Marroni hanno annunciato l'introduzione di un ticket ad hoc per questo tipo di intervento, ma rimane l'incertezza per chi vive in una regione che resta in attesa delle linee guida nazionali e che dunque potrebbe non voler pagare per queste prestazioni. Per questo Gelli ha definito comunque quella della Toscana una pericolosa fuga in avanti. A stretto giro ancora via Twitter ecco la risposta del governatore Rossi che ha ribadito un concetto già espresso in passato. Quando si parla di fecondazione eterologa, ha scritto il governatore, si parla di persone che desiderano avere dei figli ed esprimono così, come dice la Corte Costituzionale, libertà e autodeterminazione. Una posizione chiara su cui si è schierato anche il capogruppo PD in Consiglio regionale Ivan Ferrucci, che con un altro cinguettio ha applaudito alla scelta del governatore invitando i centri specializzati ad applicare subito la delibera. Su un punto però sia Gelli che Rossi si sono trovati d'accordo sulla necessità cioè che il governo e il Parlamento facciano chiarezza redigendo le linee guida nazionali che di fatto scavalcheranno quelle manate in Toscana. Pochi giorni ancora e 14 punti vendita della società 2G Desparre, di cui 4 nella provincia di Firenze, passeranno alle dipendenze di Astrea, società del gruppo Conad. 249 i dipendenti interessati dall'accordo in Toscana, di cui 60 nella provincia di Firenze. Per i lavoratori esclusi dall'accordo ci sarebbero trattative in corso in fase avanzata, secondo la Filcams CGL. Tra gli interessati potrebbe esserci la stessa Conad, che amplierebbe così i margini della proposta. Niente da fare per il momento ad Arezzo per i quasi 200 lavoratori del magazzino Cadla, titolare del marchio Desparre Eurospar, che dopo la richiesta di concordato preventivo della società, hanno smesso di rifornire molti supermercati del territorio. In attesa di un accordo che possa tutelare l'occupazione di questi lavoratori, nei prossimi giorni si terrà un tavolo al Ministero per chiedere l'accesso alla Cassa Integrazione straordinaria. Lavori in corso al Parco delle Cascine di Firenze, dove venerdì 22 agosto comincerà la festa del Partito Democratico, che quest'anno, in omaggio al quotidiano fondato da Antonio Gramsci, tornerà a chiamarsi Festa dell'Unità. Il tradizionale appuntamento cultural-politico di fine estate quest'anno si rafforza, visto il ruolo centrale, giocato da un PD che sente di avere saldamente in mano la guida del Paese. Ecco dunque che in 24 giorni di festa sfileranno a Firenze ministri, viceministri e sottosegretari per parlare dei temi di più stretta attualità. Si comincia il 28 di agosto con il guardasigilli Andrea Orlando impegnato con la riforma della giustizia e si chiuderà il 12 settembre con il ministro delle riforme, Maria Elena Boschi. E poi Roberta Pinotti, Giuliano Poletti, Luca Lotti, Massimo D'Alema, Pippo Civati, Maurizio Landini, aspettando il premier Matteo Renzi. Renzi fa il presidente del Consiglio, non è semplice avere un presidente del Consiglio un mese prima, quando facciamo il programma. Questa è la sua città, questa è la sua gente, questa è la sua comunità, lo aspettiamo. 40 gli stand allestiti alle cascine per un costo complessivo di 300 mila euro circa. Uno sforzo non indifferente per il partito, reso possibile dai 200 volontari che lavoreranno ogni sera alla festa. Grande attenzione anche alla sicurezza. Memori della tragedia del 27 giugno scorso, quando un ramo si è staccato da un albero proprio alle cascine causando la morte di due persone, gli organizzatori e il comune hanno provveduto a un check-up completo delle piante nella zona della manifestazione. E' un fine agosto fatto di parole e musica, quello organizzato dai ristoranti e dalle botteghe aderenti a vetrina a Toscana, la manifestazione promossa dalla regione da Union Camere che punta a coniugare i sapori della tradizione e i prodotti chilometri zero con l'ampia offerta culturale e artistica del Gran Ducato. Aperitivi, cene e degustazioni trovano la loro collocazione ideale all'interno di ville e musei su tutto il territorio. Nell'ultima settimana di agosto poi, protagonista è appunto la musica con gli itinerari musicali e i sentieri acustici che si svolgono sulla montagna Pistoiese dove sarà possibile anche salire sull'Ecomuseo Bass che partirà il 24 e il 31 agosto per far scoprire ai turisti i sapori tipici dell'Appennino rivisitati dagli chef di vetrina toscana. A Torre del Lago invece le note del Festival Pucciniano si incontreranno con il gusto della tradizione della Versilia, con uno sconto del 25% sui biglietti del teatro per chi parteciperà alle cene. L'Isola d'Elba è tra le località italiane scelte per la celebrazione del bimillenario della morte dell'imperatore Augusto. Un'occasione che ha coinvolto l'isola con varie iniziative, tra cui la riscoperta della Villa Romana delle Grotte, riaperta al pubblico pochi mesi fa dopo anni di scavi archeologici e grazie alla gestione appassionata di tre giovani archeologhe che hanno fondato la cooperativa Archeocolor allo scopo di rendere fruibile il patrimonio artistico. Ci siamo innamorate del sito e abbiamo deciso di costituire questa associazione proprio per la gestione del sito stesso. Siamo riusciti ad avere un contratto di comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Villa Romana delle Grotte per tre anni e a titolo completamente volontario cerchiamo di ripristinare per rendere fruibile il sito. Un'occasione anche per rilanciare un progetto di parco archeologico dell'Elba, sostenuto anche dall'amministrazione comunale di Portoferraio e dall'Associazione Italia Nostra, per creare un unico itinerario tra le scavi archeologici dell'isola e valorizzare così il patrimonio. Ci sono tutte le potenzialità per considerare questo sito come il futuro prossimo, secondo luogo, dopo le ville napoleoniche. Un progetto di un parco archeologico sarebbe l'occasione per ricucire tutti questi elementi, metterli in fila, metterli all'interno di una collana che potrebbe poi essere l'occasione di visite ma anche di valorizzazione di altri luoghi che sono in questo posto stupendo. Estate di lavori e cantieri in 23 scuole fiorentine. In attesa che il governo distribuisca ai comuni della Toscana i 14 milioni di euro promessi per il progetto Scuole Sicure, di cui 7 milioni e mezzo circa arriveranno nel capoluogo, il vice sindaco di Firenze con delega all'istruzione Cristina Giacchi ha effettuato un sopralluogo in due istituti della città per monitorare lo stato delle ristrutturazioni finanziate direttamente dal Comune. Quest'anno il Comune di Firenze ha messo in campo 13 milioni di euro per gli interventi delle scuole che riguardano sia grandi cantieri di demolizione e ricostruzione come nel caso della scuola Calvino per la quale stiamo facendo proprio in queste settimane la canterizzazione, sia lavori importanti di ristrutturazione, in questo caso siamo alla scuola Cassel e l'intervento è quello di rifacimento delle coperture che avevano dato problemi e avevano dato infiltrazioni nell'ultimo periodo. I lavori costati 560 mila euro al Comune che interessano circa due terzi del tetto dell'intero edificio saranno completati entro l'inizio dell'anno scolastico mentre il resto verrà realizzato con fondi statali l'estate prossima. Di minore entità invece l'intervento all'istituto Capponi di Viale Matteotti dove sono stati installati degli infissi antirumore alle finestre delle aule che danno sulla strada per limitare l'impatto acustico del traffico automobilistico. Oltre a questo sono state reimbiancate le pareti delle aule con un colore diverso per ogni piano. Costo complessivo 261 mila euro. Per dare il via a interventi più complessi come quelli alla scuola Dino Compagni si aspetteranno invece soldi statali, 14 milioni di euro appunto, extra patto di stabilità. Sono 27.313 controlli effettuati dal Corpo Forestale dello Stato sul territorio regionale nel primo semestre del 2014. 1.700 li illeciti accertati, 7.845 le persone controllate, 507 quelle denunciate e 1.508 le sanzioni. I dati sono stati diffusi in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Villa La Favorita alla presenza delle autorità. Un modo per fare il punto anche sul numero di incendi che hanno colpito le aree boschive nel corso dell'estate. Al 15 agosto il 38% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 90 casi invece di 65, ma una riduzione rispetto alla media del quinquennio 2009-2013, pari almeno 64%. Un'attività, quella sul fronte dell'antincendio, che non interessa il Corpo Forestale solo per gli interventi di emergenza, ma anche nell'azione di repressione del fenomeno. In occasione dell'inaugurazione di Villa La Favorita è stato anche sottoscritto il rinnovo della Convenzione tra Regione Toscana e il Corpo Forestale dello Stato per il triennio 2014-2016 in materia forestale, lotta agli incendi boschivi ed educazione ambientale. Un luglio così piovoso non si vedeva dal 1916, secondo il Servizio Idrogeologico della Regione Toscana. Il dato medio delle precipitazioni nei 30 giorni si è attestato sui 170 mm con un surplus di pioggia del 450%. Il Consorzio LAM aveva già anticipato il dato, spiegando che nel mese di luglio è piovuto sei volte in più rispetto alla media stagionale, con una quantità di acqua superiore a quella di novembre, il mese più piovoso dell'anno. Sono registrate precipitazioni sei volte superiori alla media su gran parte della regione, in particolare sulle province nord-occidentali, quindi le città di Pisa, Massacarrara, Lucca, Pistoia, anche Livorno. Anche i giorni piovosi sono stati quattro volte la norma. A Livorno è piovuto 15 volte in più rispetto alla media, a Lucca e Pisa 9 volte di più, a Firenze è piovuto il doppio e ad Arezzo e Siena il triplo. L'alta pressione rimonterà nell'ultima settimana di agosto, fa sapere il LAM, portando con sé temperature più elevate, mentre per il mese di settembre non dovrebbero esserci variazioni sostanziali rispetto ad agosto, con alternanza di piogge e bel tempo e una temperatura inferiore alla media. La regione toscana metterà mano al portafogli per sostenere attraverso una campagna di comunicazione e promozione ad hoc le iniziative che i singoli stabilimenti balneari vorranno organizzare anche dopo il 15 settembre, data di chiusura ufficiale della stagione estiva. Iniziative di cui si è parlato nel corso di un tavolo a Firenze, cui hanno partecipato dirigenti della regione, il sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti e i rappresentanti delle categorie economiche e balneari. Obiettivo quello di salvare una stagione messa a dura prova dal maltempo che ha determinato un crollo delle presenze sotto gli ombrelloni del 50%. Diciamo che sarà molto importante quello che succederà anche a livello soprattutto di promozione perché non basta aprire, bisogna che arrivi gente anche per mantenere le nostre imprese attive, funzionanti, che sono cariche di spese e purtroppo anche di burocrazia. Per questo la regione creerà una mail ad hoc dove gli esercenti potranno comunicare gli eventi organizzati per settembre e a quel punto sarà Toscana a promozione a prenderne in carico la campagna di comunicazione. Il tutto però con lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Nella fine dell'anno avremo programmato anche un coordinamento degli eventi sia degli enti locali che delle imprese in modo da dare una maggiore visibilità, fare massa critica sul cartellone sull'estate del 2015. Il 2015 sarà anche l'anno in cui verranno messe all'asta le concessioni balneari come previsto dalla direttiva europea Bolkenstein. E su questo il sindaco di Forte dei Marmi ha chiesto un intervento diretto da parte del governo per dare certezze agli imprenditori incentivandoli a investire sul rinnovo degli stabilimenti. La scelta della regione toscana di autorizzare la fecondazione terologa in 22 centri tra pubblici, privati e privati convenzionati spacca il Partito Democratico. Il deputato del PD di stretta osservanza arenziana, nonché membro della Commissione Sanità alla Camera Federico Gelli, su Twitter ha bocciato la strada intrapresa dal governatore della Toscana Enrico Rossi definendola pericolosa per l'intero sistema sanitario. Il fatto che non ci siano linee guida uniformi a livello nazionale infatti secondo Gelli porterà decine di coppie a spostarsi in Toscana per sottoporsi alla fecondazione terologa, ma si chiede il deputato fiorentino chi pagherà per queste prestazioni. Per i toscani il problema non si pone, visto che sia Rossi che l'assessore alla sanità Luigi Marroni hanno annunciato l'introduzione di un ticket ad hoc per questo tipo di intervento, ma rimane l'incertezza per chi vive in una regione che resta in attesa delle linee guida nazionali e che dunque potrebbe non voler pagare per queste prestazioni. Per questo Gelli ha definito comunque quella della Toscana una pericolosa fuga in avanti. A stretto giro, ancora via Twitter, ecco la risposta del governatore Rossi, che ha ribadito un concetto già espresso in passato. Quando si parla di fecondazione eterologa, ha scritto il governatore, si parla di persone che desiderano avere dei figli ed esprimono così, come dice la Corte Costituzionale, libertà e autodeterminazione. Una posizione chiara su cui si è schierato anche il capogruppo PD in consiglio regionale Ivan Ferrucci, che con un altro cinguettio ha applaudito alla scelta del governatore, invitando i centri specializzati ad applicare subito la delibera. Su un punto però, sia Gelli che Rossi si sono trovati d'accordo sulla necessità cioè che il governo e il Parlamento facciano chiarezza, redigendo le linee guida nazionali che di fatto scavalcheranno quelle vanate in Toscana. Pochi giorni ancora e 14 punti vendita della società 2G Desparre, di cui 4 nella provincia di Firenze, passeranno alle dipendenze di Astrea, società del gruppo Conad. 249 i dipendenti interessati dall'accordo in Toscana, di cui 60 nella provincia di Firenze. Per i lavoratori esclusi dall'accordo ci sarebbero trattative in corso, in fase avanzata, secondo la Filcams CGL. Tra gli interessati potrebbe esserci la stessa Conad, che amplierebbe così i margini della proposta. Niente da fare per il momento ad Arezzo, per i quasi 200 lavoratori del magazzino Cadla, titolare del marchio Desparre Eurospar, che dopo la richiesta di concordato preventivo della società, hanno smesso di rifornire molti supermercati del territorio. In attesa di un accordo che possa tutelare l'occupazione di questi lavoratori, nei prossimi giorni si terrà un tavolo al Ministero per chiedere l'accesso alla Cassa Integrazione straordinaria. Lavori in corso al Parco delle Cascine di Firenze, dove venerdì 22 agosto comincerà la festa del Partito Democratico, che quest'anno, in omaggio al quotidiano fondato da Antonio Gramsci, tornerà a chiamarsi Festa dell'Unità. Il tradizionale appuntamento cultural-politico di fine estate quest'anno si rafforza, visto il ruolo centrale, giocato da un PD che sente di avere saldamente in mano la guida del Paese. Ecco dunque che in 24 giorni di festa sfileranno a Firenze ministri, viceministri e sottosegretari per parlare dei temi di più stretta attualità. Si comincia il 28 di agosto con il guardasigilli Andrea Orlando impegnato con la riforma della giustizia e si chiuderà il 12 settembre con il ministro delle riforme, Maria Elena Boschi. E poi Roberta Pinotti, Giuliano Poletti, Luca Lotti, Massimo D'Alema, Pippo Civati, Maurizio Landini, aspettando il premier Matteo Renzi. Renzi fa il presidente del Consiglio, non è semplice avere un presidente del Consiglio un mese prima, quando facciamo il programma. Questa è la sua città, questa è la sua gente, questa è la sua comunità, lo aspettiamo. 40 gli stand allestiti alle cascine per un costo complessivo di 300 mila euro circa. Uno sforzo non indifferente per il partito, reso possibile dai 200 volontari che lavoreranno ogni sera alla festa. Grande attenzione anche alla sicurezza. Memori della tragedia del 27 giugno scorso, quando un ramo si è staccato da un albero proprio alle cascine causando la morte di due persone, gli organizzatori e il comune hanno provveduto a un check-up completo delle piante nella zona della manifestazione. E' un fine agosto fatto di parole e musica, quello organizzato dai ristoranti e dalle botteghe aderenti a vetrina a Toscana, la manifestazione promossa dalla regione da Union Camere che punta a coniugare i sapori della tradizione e i prodotti chilometri zero con l'ampia offerta culturale e artistica del Gran Ducato. Aperitivi, cene e degustazioni trovano la loro collocazione ideale all'interno di ville e musei su tutto il territorio. Nell'ultima settimana di agosto poi, protagonista è appunto la musica con gli itinerari musicali e i sentieri acustici che si svolgono sulla montagna Pistoiese dove sarà possibile anche salire sull'Ecomuseo Bass che partirà il 24 e il 31 agosto per far scoprire ai turisti i sapori tipici dell'Appennino rivisitati dagli chef di vetrina toscana. A Torre del Lago invece le note del Festival Pucciniano si incontreranno con il gusto della tradizione della Versilia, con uno sconto del 25% sui biglietti del teatro per chi parteciperà alle cene. L'Isola d'Elba è tra le località italiane scelte per la celebrazione del bimillenario della morte dell'imperatore Augusto. Un'occasione che ha coinvolto l'isola con varie iniziative, tra cui la riscoperta della Villa Romana delle Grotte, riaperta al pubblico pochi mesi fa dopo anni di scavi archeologici e grazie alla gestione appassionata di tre giovani archeologhe che hanno fondato la cooperativa Archeocolor allo scopo di rendere fruibile il patrimonio artistico. Ci siamo innamorate del sito e abbiamo deciso di costituire questa associazione proprio per la gestione del sito stesso. Siamo riusciti ad avere un contratto di comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Villa Romana delle Grotte per tre anni e a titolo completamente volontario cerchiamo di ripristinare per rendere fruibile il sito. Un'occasione anche per rilanciare un progetto di parco archeologico dell'Elba, sostenuto anche dall'amministrazione comunale di Portoferraio e dall'Associazione Italia Nostra per creare un unico itinerario tra le scavi archeologici dell'isola e valorizzare così il patrimonio. Ci sono tutte le potenzialità per considerare questo sito come il futuro prossimo, secondo luogo, dopo, immediatamente dopo le ville napoleoniche. Un progetto di un parco archeologico sarebbe l'occasione per ricucire tutti questi elementi, metterli in fila, metterli all'interno di una collana che potrebbe poi essere l'occasione di visite ma anche di valorizzazione di altri luoghi che sono in questo posto stupendo. Estate di lavori e cantieri in 23 scuole fiorentine. In attesa che il governo distribuisca ai comuni della Toscana i 14 milioni di euro promessi per il progetto Scuole Sicure, di cui 7 milioni e mezzo circa arriveranno nel capoluogo, il vice sindaco di Firenze con delega all'istruzione Cristina Giacchi ha effettuato un sopralluogo in due istituti della città per monitorare lo stato delle ristrutturazioni finanziate direttamente dal Comune. Quest'anno il Comune di Firenze ha messo in campo 13 milioni di euro per gli interventi delle scuole che riguardano sia grandi cantieri di demolizione e ricostruzione, come nel caso della scuola Calvino, per la quale stiamo facendo proprio in queste settimane la canterizzazione, sia lavori importanti di ristrutturazione. In questo caso siamo alla scuola Cassel e l'intervento è quello di rifacimento delle coperture che avevano dato problemi e avevano causato infiltrazioni nell'ultimo periodo. I lavori costati 560 mila euro al Comune che interessano circa due terzi del tetto dell'intero edificio saranno completati entro l'inizio dell'anno scolastico, mentre il resto verrà realizzato con fondi statali l'estate prossima. Di minore entità invece è l'intervento all'Istituto Capponi di Viale Matteotti, dove sono stati installati degli infissi antirumore alle finestre delle aule che danno sulla strada per limitare l'impatto acustico del traffico automobilistico. Oltre a questo sono state reimbiancate le pareti delle aule con un colore diverso per ogni piano. Costo complessivo 261 mila euro. Per dare il via a interventi più complessi, come quelli alla scuola Dino Compagni, si aspetteranno invece soldi statali, 14 milioni di euro appunto, extra patto di stabilità. Grazie.